Mirta Merlino torna in onda per la seconda stagione consecutiva con Pomeriggio 5. Dopo la pausa estiva, durante la quale il programma di news e approfondimento di Canale 5 è stato condotto da Simona Branchetti, la giornalista, ex la 7, riprende quindi il suo posto. Smentite le voci che erano circolate nei mesi scorsi su una sua possibile sostituzione. Anzi, Mirta appare più carica che mai, come dichiarato ad alcuni giornali alla vigilia. Intanto a poche ore dalla prima puntata è scoppiato un vero e proprio caso sul programma. Stavolta non si parla della tanto discussa e presunta rivalità tra Merlino e chi l'ha preceduta, ossia Barbara D'Urso. Il caso coinvolge un altro presentatore, ma stavolta di casa Rai, Alberto Matano. La vicenda sta facendo molto discutere sui social e parte da una segnalazione dei telespettatori. Mirta Merlino ha copiato Alberto Matano? È questa l'accusa che si legge stamani su alcuni organi di stampa, come Libero Magazine, in un articolo in cui si parla della nuova stagione di Pomeriggio 5. Il nuovo studio del programma ricorda non poco quello della vita in diretta di Alberto Matano, l'ingombrante concorrenza che a breve tornerà a battagliare negli ascolti tv proprio con Pomeriggio 5. Come fatto notare da molti, l'ambiente sembra quasi un copia in colla di quello di Rai 1. Basterà per raggiungere gli stessi risultati? Al momento, in realtà, il nuovo studio non è stato ancora svelato nella sua interezza. Mirta si è limitata a pubblicare un video nei giorni scorsi in cui si intravedeva qualcosa, ma non tutto, per lasciare un po' di suspense. I telespettatori, come detto, si sono divisi. Se per alcuni lo studio di Pomeriggio 5 è uguale a quello della vita in diretta, altri ritengono invece che il nuovo studio di Pomeriggio 5 sia in realtà pressoché identico a quello dell'anno scorso, ci prendete in giro, ma non siamo così ingenui, scriveva un utente a questo proposito. Sul nuovo ambiente, Mirta ha dichiarato a Davide Maggio, avevo bisogno di uno studio che fosse più vicino a me, che mi somigliasse di più e in cui mi sentissi a casa, quel tavolo diventa in qualche modo l'approdo dove le notizie arrivano e da cui poi ripartono le nostre osservazioni, le nostre idee, le mie e quelle dei miei ospiti. Inoltre, Merlino ha annunciato che quest'anno ci sarà un team di opinionisti fissi, ripartirò con i miei amici, con le persone che mi sono state vicine, con le persone che ho sentito affini e stimolanti lo scorso anno. Però sono pronta ad accogliere dell'altro, altri stimoli, altre persone, ma entrano loro a casa mia, questa è la cosa importante, sono io la padrona di casa. Iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.